La prima tappa dello yoga di Shri Aurobindo ed il suo obiettivo maggiore, quello che ci fornisce la chiave di tante realizzazioni, è il silenzio mentale. Qualcuno potrà chiedersi come mai, ma è evidente che se vogliamo scoprire una nuova terra dentro di noi, dobbiamo prima di tutto lasciare il nostro vecchio paese. Tutto dipende dalla determinazione con cui faremo questo primo passo. A volte è sufficiente un lampo ed ecco che qualcosa esplode in noi. Ah, basta con questa roba. Allora ci troviamo finalmente sulla strada giusta e andiamo avanti senza più guardarci indietro. Altri invece dicono un sì che in realtà è un no e perciò ondeggiano senza fine fra due mondi. Ma non si tratta, è bene dirlo subito, di rinunciare a un bene guadagnato a fatica in nome di chissà quale saggezza, pace, serenità e altri paroloni solenni. Non si tratta di cercare la santità, ma la giovinezza, l'eterna giovinezza di un essere in crescita. Non di essere qualcosa di meno, ma qualcosa di meglio e soprattutto di più vasto. Non vi è mai passato per la testa che se i saggi perseguissero come bene supremo una cosa fredda, oscura e tetra, non sarebbero saggi, ma idioti, osservava con umorismo Sri Aurobindo. In realtà, appena il meccanismo si ferma, si fanno un mucchio di scoperte. La prima è che se il potere di pensare è un dono, il potere di non pensare è un dono assai più grande. Che il ricercatore ci provi solo per cinque minuti e subito si renderà conto di che gatta da pelare si tratta. Si accorgerà di vivere in un subdolo, caotico, frastuono, in un turbine stancante, ma instancabile, dove non c'è posto per i suoi pensieri, i suoi sentimenti, i suoi impulsi, le sue reazioni. La mente è un enorme gnomo invadente che nasconde tutto e ascolta solo se stessa, vede solo se stessa, conosce solo se stessa e male per di più. Magina sempre certi temi, sempre gli stessi, più o meno variati, che le danno l'illusione della novità. E Sri Aurobindo dice in un certo senso noi siamo una massa intricata di abitudini mentali, nervose e fisiche, tenute insieme da poche idee guida, da certi desideri e associazioni, un'amalgama di tante piccole forze ripetitive e di poche vibrazioni fondamentali. A partire dai diciott'anni eccoci codificati e sistemati, potremmo dire. Le nostre vibrazioni di base sono ormai stabili e attorno a loro ruoteranno all'infinito e si depositeranno in strati sempre più spessi, sempre più levigati e politi, i sedimenti di quella medesima, sempiterna cosa dei mille volti che chiamiamo cultura o noi stessi. Eccoci insomma rinchiusi in una costruzione, a volte plumbea e senza luce, a volte slanciata come un minareto, ma sempre chiusa, ronzante, ripetitiva. Eccoci prigionieri del nostro involucro di granito e della nostra statua di vetro o della nostra statua di vetro. Il primo risultato dello yoga è un respirare a più pieni polmoni. Ovviamente l'abolizione di quello schermo mentale che lasciava passare solo un certo tipo di vibrazioni ci mette in contatto con la multicolore infinità delle vibrazioni, vale a dire col mondo e con gli esseri quali sono in realtà e ci mette in contatto con un altro noi stessi che vale ben più di quanto pensiamo. Quando ci mettiamo seduti ad occhi chiusi per far silenzio nella mente veniamo immediatamente invasi da un torrente di pensieri saltano fuori da ogni angolo come topi spaventati e aggressivi per uscire da una simile baraonda non ci sono migliaia di modi, ce n'è uno solo tentare e tentare ancora con pazienza e ostinazione soprattutto senza commettere l'errore di metterci a lottare mentalmente contro la mente dobbiamo spostare il centro d'azione ognuno di noi al di sopra della mente o più in profondità ha un'aspirazione quella stessa che ci ha spinti a metterci in marcia un bisogno del nostro essere una sorta di parola d'ordine valida solo per noi se ci aggrappiamo a questa aspirazione il lavoro diventa più facile passiamo da un atteggiamento negativo a uno positivo e più ripeteremo la nostra parola d'ordine più essa acquisterà potere potremmo magari anche concentrarci su di un'immagine per esempio quella di un mare immenso e senza increspatura su cui lasciarsi galleggiare come un fuscello facendoci trasformare in quella tranquilla immensità in tal modo possiamo imparare non soltanto a far tacere la mente ma anche contemporaneamente ad allargare la nostra coscienza in realtà però ognuno deve trovare il proprio metodo e meno tensione ci metterà più rapido sarà il risultato per raggiungere questo fine che normalmente comporta una lunga fatica si può incominciare con un procedimento o con un altro dice Sri Aurobindo oppure venir presi fin dall'inizio da un rapido comparire o manifestarsi del silenzio trovandoci di fronte a un effetto assolutamente sproporzionato ai mezzi usati all'inizio si inizia con un metodo ma il lavoro viene assunto da una grazia dall'alto da ciò a cui uno aspira o dall'irrompere delle infinità dello spirito è stato in quest'ultimo modo che anch'io sono arrivato all'assoluto silenzio della mente inimmaginabile per me prima di averne l'esperienza concreta eccoci dunque a un punto assai importante la tentazione infatti di pensare che queste esperienze yogiche saranno magari bellissime e interessanti ma in fin dei conti lontane dalla comune umanità come potremmo noi fatti come siamo arrivarci mai l'errore è di giudicare col metro del nostro io attuale possibilità che appartengono a un altro io lo yoga infatti può avere l'effetto di svegliare automaticamente fin dal primo istante in cui entriamo nell'esperienza tutta una gamma di facoltà latenti e di forze invisibili ben più poderose del nostro essere esterno che possono farci compiere cose di cui in condizioni normali saremmo incapaci dice Sri Aurobindo bisogna sgombrare il passaggio fra la mente esterna e l'essere interiore poiché la coscienza yogica coi suoi poteri è già lì dentro di voi il modo migliore per sgombrare questo passaggio è far tacere la mente noi non sappiamo ancora chi siamo e men che mai sappiamo di che cosa siamo o non siamo capaci benché in un primo momento possano essere necessari per dare una spinta iniziale gli esercizi di meditazione non rappresentano però certo la soluzione del problema anche se infatti raggiungeremo un relativo silenzio appena messo piede fuori del nostro luogo appartato ricadremo nel solito caos e si ripresenterà l'eterna divisione fra dentro e fuori fra vita interiore e vita nel mondo noi invece abbiamo bisogno di una vita completa abbiamo bisogno di vivere la verità del nostro essere in ogni istante di ogni giorno non solo nei giorni festivi o nella solitudine e quindi le meditazioni beate e bucoliche non possono essere la soluzione Charo Bindo dice resteremo facilmente imbischiati nella nostra reclusione spirituale sicché più tardi ci sarà difficile uscirne vittoriosamente applicando alla vita quanto abbiamo guadagnato nella natura superiore allorché vorremmo aggiungere anche il regno esterno alle nostre conquiste interiori potremo ritrovarci troppo abituati ad un'attività puramente soggettiva inefficace sul piano materiale e allora ci sarà estremamente difficile trasformare la nostra vita esterna ovvero potremo accorgerci che il nostro agire non corrisponde alla luce interiore e segue sempre le vecchie consuete strade lastricate di errori continuando ad obbedire ai soliti vecchi influssi pieni di imperfezioni mentre la verità che dentro di noi continuerà a restare isolata da noi dal barato doloroso costituito dai meccanismi ignoranti della natura esteriore come se vivessimo in un altro mondo più vasto e sottile ma senza avere nessun appiglio divino o addirittura senza appiglio di nessun tipo sull'esistenza materiale e terrestre l'unica soluzione perciò sta nel cercare di stare mentalmente in silenzio proprio laddove in apparenza è più difficile e cioè per la strada in autobus sul lavoro dovunque invece di fare un certo tragitto quattro volte al giorno incalzati dall'ansia e dalla fretta farlo coscientemente come parte della nostra ricerca invece di vivere come viene viene perduti in una folla di pensieri non solo privi di interesse ma esasperanti come un discrotto riannodare i fili sparsi della coscienza e lavorare lavorare su se stessi in ogni istante la vita comincerà ad assumere un interesse assolutamente nuovo perché le più insignificanti circostanze diventeranno occasioni di vittoria ci sarà una bussola a guidarci non andremo più a casaccio ma in una direzione ben definita lo yoga non è un modo di fare è un modo di essere transizione eccoci dunque alla ricerca di un altro paese ma dobbiamo pure ammetterlo fra il paese che ci lasciamo alle spalle e quello verso cui stiamo andando c'è una terra di nessuno piuttosto faticosa da attraversare ovvero un periodo di prova più o meno lungo a secondo della determinazione che ci anima è una cosa ben nota dai tempi dei tempi fin dalle iniziazioni asiatiche egizie orfiche dei cavalieri alla ricerca del graal il cammino della nostra ascesa è accompagnato da prove un tempo si trattava di prove magari romantiche tutto sommato non c'era niente di così tragico nel farsi rinchiudere in un sarcofago al suono dei flauti o nel celebrare il proprio rito funebre attorno al rogo oggi i nostri sarcofagi sono pubblici e le nostre vite altrettanti tipi di sepoltura vale la pena di fare uno sforzo per uscirne lì dentro tutto sommato non ci lasciamo davvero un granché il sintomo principale di questa transizione è un vuoto interiore dopo aver tanto vissuto nell'agitazione febbrile della mente ci ritroviamo ad un tratto come convalescenti un po' alla deriva con nella testa strani echi di questo mondo orribilmente chiassoso e spossante una sensibilità iper acuta ci dà l'impressione continua di urtare dappertutto contro esseri opachi e aggressivi oggetti ingombranti fatti brutali il mondo ci appare di un'immane assurdità è il segno che cominciamo a interiorizzarci se poi tentiamo di scendere dentro di noi ricorrendo alla meditazione ecco che ritroviamo lo stesso vuoto una specie di pozzo buio amorfo e neutro e se insistiamo a scendere ci succede spesso di scivolare di colpo nel sonno per due secondi o dieci per un paio di minuti o a volte di più in realtà non si tratta di un sonno normale siamo semplicemente passati in un'altra coscienza però non esiste ancora nessun ponte fra quest'altra coscienza e quella di veglia e almeno apparentemente non ne usciamo più progrediti di quando ci siamo entrati uno stato di transizione che ci potrebbe anche portare ad un assurdo nichilismo non c'è più niente fuori ma neanche dentro non ci troviamo più da una parte né dall'altra a questo punto quando le costruzioni mentali esterne sono crollate bisogna stare molto attenti a non rinchiudersi in una falsa profondità in un'altra costruzione assurda illusionistica e scettica magari di continua rivolta una volta cominciato lo yoga bisogna andare fino in fondo costi quel che costi se infatti molliamo il filo il richiamo rischiamo di non trovarlo più è proprio questa la prova il ricercatore deve capire che sta soltanto cominciando a nascere ad un'altra cosa occhi nuovi e nuovi sensi che non si sono ancora ben formati sono simili a quelli di un neonato che viene al mondo non si tratta di una diminuzione della coscienza ma del passaggio ad un'altra coscienza sri robindo dice bisogna che la coppa sia vuota e pulita per poterla riempire del liquore divino in queste circostanze la sola risorsa è aggrapparci alla nostra aspirazione e farla crescere crescere proprio a causa di questa terribile mancanza di tutto come un fuoco in cui buttare tutte le vecchie cose la vecchia vita le vecchie idee i sentimenti semplicemente con la fiducia incrollabile che oltre questo passaggio si aprirà una porta non si tratta di una fede assurda dell'ebete credulità dello sciocco ma di una preconoscenza di qualcosa che sa e che vede prima di noi e che fa affiorare la sua visione sotto forma di bisogno di ricerca di inesplicabile fiducia la fede dice Sri Aurobindo è un'intuizione non solo in attesa dell'esperienza che la giustificherà ma che conduce all'esperienza e a poco a poco il vuoto si colma incomincia allora una serie di osservazioni e di esperienze piuttosto importanti che sarebbe sbagliato presentare in sequenza logica una volta lasciato il vecchio mondo ci rendiamo conto che tutto è possibile ma soprattutto che non esistono due casi perfettamente uguali da qui l'errore di tutti i dogmatismi possiamo quindi solo tracciare qualche generica linea d'esperienza innanzitutto quando in mancanza del silenzio assoluto si è stabilita in noi una relativa pace mentale e la nostra aspirazione il nostro bisogno è cresciuto in noi sempre più continuo immobile lancinante come un buco che ci portiamo dentro osserviamo intanto un fenomeno che avrà conseguenze incalcolabili per tutto il resto del nostro yoga sentiamo attorno alla testa e più in particolare attorno alla nuca una pressione insolita che può sembrare un mal di testa all'inizio non riusciamo a sopportarla molto a lungo cerchiamo di farla passare di distrarci di pensare ad altro poco alla volta però questa pressione prende una forma più definita e sentiamo una vera e propria corrente che scende un flusso di forza che non somiglia ad una sgradevole corrente elettrica ma piuttosto a una massa fluida ci accorgiamo allora che la pressione o il preteso mal di testa era causato soltanto dalla nostra resistenza alla discesa della forza e che la sola cosa da fare è non ostruire il passaggio cioè non bloccare la corrente nella testa ma lasciarla scendere in tutti i piani del nostro essere da cima a fondo all'inizio il flusso è piuttosto irregolare spastico e quando si affievolisce occorre un leggero sforzo cosciente per ristabilire il contatto poi però diventa più tranquillo naturale automatico e dà una sensazione di fresca energia una sensazione gradevolissima come una respirazione più ampia di quella polmonare che ci avvolge e in cui ci si immerge rendendoci più leggeri e insieme più saldi l'effetto fisico che produce somiglia molto a quello di una passeggiata nel vento in realtà degli effetti che ha e che si manifestano con molta gradualità a piccole dosi ci accorgiamo solo quando per una ragione qualsiasi distrazione errore o eccesso il flusso si interrompe ecco che allora ci ritroviamo di colpo vuoti e rinsecchiti come per un'improvvisa mancanza di ossigeno con una sensazione assai sgradevole di inaridimento fisico come una mela avvizzita svuotata del succo e del suo sole e ci chiediamo come prima potessimo farne a meno è la prima trasmutazione delle nostre energie invece di attingere alla sorgente consueta alla vita universale attorno a noi e al di sotto di noi attingiamo dall'alto un'energia molto più chiara e più compatta senza soluzione di continuità e soprattutto molto più viva all'inizio nella vita di tutti i giorni in mezzo al lavoro e alle mille occupazioni il flusso di energia è piuttosto diluito ma basta fermarsi concentrandosi un attimo per sentirse invadere copiosamente tutto diventa perfettamente immobile ne siamo così riempiti che sparisce ogni sensazione di flusso come se dalla testa ai piedi tutto il corpo fosse carico di un'energia compatta e cristallina insieme un blocco di pace solido e fresco lo definisce Sri Aurobindo e se in noi ha cominciato a dischiudersi la visione interiore vedremo che tutto è azzurro come acqua marina vasto tranquillo senza un'increspatura e quell'indescrivibile freschezza ci siamo davvero immersi nella sorgente perché quella forza che scende è proprio la forza dello spirito la Shakti dire forza spirituale non è soltanto un modo di dire a un certo punto non sarà più necessario chiudere gli occhi ritraendosi dalla superficie per sentirla sarà presente in ogni istante qualunque cosa uno faccia mangiare leggere o parlare anzi a mano a mano che l'organismo si abitua la sentiremo crescere d'intensità in effetti si tratta di una massa immane di energia che trova un limite solo nella nostra scarsa capacità di ricevere per esprimere l'esperienza di questa forza discendente le persone che stavano attorno a Shri Aurobindo e a Mer dicevano la forza di Shri Aurobindo e di Mer non intendendo certo dire con questo che la Shakti sia proprietà esclusiva di nessuno ma confermando senza volerlo il fatto che la sua azione discendente non ha analogie in nessun altro yoga conosciuto siamo perciò arrivati sperimentalmente alla differenza basilare fra il purna yoga lo yoga integrale di Shri Aurobindo e le altre discipline chi abbia sperimentato altri metodi yogici prima di quello di Shri Aurobindo si accorgerà di una differenza pratica essenziale in ogni altro yoga dopo un certo tempo si fa l'esperienza di una forza ascendente chiamata in India Kundalini che si sveglia piuttosto bruscamente alla base della colonna vertebrale e sale di livello in livello fino a raggiungere la sommità del cranio qui sembra come schiudersi in un pulsare luminoso irradiante accompagnato da una sensazione di immensità e spesso da quella perdita di coscienza chiamata estasi simile allo sboccare in un eterno altrove tutti i processi yogici che potremmo chiamare termogeneratori le asana dell'alta yoga le concentrazioni del raggia yoga gli esercizi respiratori del pranayama mirano appunto a risvegliare questa forza ascendente quasi tutti però presentano il pericolo di profonde perturbazioni e perciò richiedono la presenza e la protezione di un guru illuminato ci torneremo questo questa diversa direzione del flusso ascendente oppure discendente corrisponde ad una differenza di orientamento che non ci stancheremo di sottolineare yoga i yoga tradizionali e supponiamo anche le discipline religiose occidentali puntano a liberare la coscienza in alto tutto l'essere proteso in un'aspirazione di ascesa cerca di superare le apparenze e di emergere lassù nella pace e nell'estasi ma come abbiamo visto il fine che si propone Shri Aurobindo non è solo un salire ma uno scendere non è una fuga nella pace eterna ma la trasformazione della vita e della materia per cominciare di quel pezzettino di vita e di materia che ognuno di noi rappresenta da qui il risveglio o meglio la risposta della forza discendente sperimentare la forza discendente vuol dire sperimentare la forza della trasformazione sarà quella forza a fare lo yoga per noi automaticamente a patto che la lasciamo fare è lei è solo lei che si sostituirà alle nostre energie dal fiato corto e rimedierà ai nostri sforzi maldestri e lei che comincerà dove gli altri yoga finiscono illuminando dapprima le cime del nostro essere e scendendo poi di livello in livello dolcemente tranquillamente irresistibilmente è bene notare che questa forza non è mai violenta la sua potenza è stranamente dosata come se fosse guidata dalla saggezza dello spirito è lei che universalizzerà il nostro essere intero fino ai livelli più bassi è questa l'esperienza fondamentale dello yoga integrale Sri Ourobindo dice una volta stabilitasi la pace la forza superiore o divina può scendere dall'alto e mettersi a lavorare dentro di noi di solito scende prima nella testa e libera i centri della mente interiore poi scende nel centro cardiaco poi nel centro ombelicale e negli altri centri vitali poi nella regione sacrale e più giù ancora lavora a perfezionarli e insieme a liberarli agisce sulla nostra natura tutt'intera una parte dopo l'altra eliminando quel che deve essere eliminato sublimando quel che deve essere sublimato creando quel che deve essere creato integra armonizza e stabilisce un nuovo ritmo della natura che 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 Grazie a tutti